45 secondi alla chiusura dell'anello Unire proprio alla capsula Straccato alla capsula Uno è da gg che vola Aspetta L'altro è da me Straccato viene da te Un altro team Vabbè facciamo così Lancio uno scudo termico Lancio uno scudo termico Lo resta e ultiamo Non fa niente Ultiamo Pure dg Bello g Mi hanno picchiato Mi hanno fatto adesso Lancio uno scudo termico Avete un accelerante E' 84% Hai un altro scudo? Ok Vai 93% 95% Dovremmo farci No no Stanno nel gas Si avvicinano Vai Qua sopra è in game? No Cazzo la safe Dietro questa roccia Dietro questa roccia A fianco a te A sinistra Ce n'era un altro Ce n'era un altro Là Eh Là Ce n'era un altro Sì, non so, non so. non c'è Quanti? Mi sto curando, sono one shot pure io oggi Grazie Ho cambiato armi Siate i campioni Apex Diffuse Ah, armatura Avevo capito arma No, non ci ho fatto caso Ma l'aveva viola L'aveva viola Allora non ci ho fatto caso Forse aveva swipato lui pure Uff